buongiorno oggi mi trovo a Bellinzona e sono qua per mostrarvi un appartamento di quattro e mezzo locali in uno stabile di quattro piani che sono al terzo piano appartamento di circa 100 metri quadri rinnovato di recente allora qui all'ingresso si trova un comodo armadio a muro con quattro scarpiera e guardaroba qui l'ampio e luminoso salotto separato da questa parete dove si trova la cucina cucina che è stata rinnovata proprio di recente colonna frigo e congelatore eccoli qua la stoviglia subito accanto del piano di lavoro e anche queste piastrelle qui si trova il piano cottura e il forno ad aria calda elettronomestici di marca bosch dalla cucina come nel salotto si può uscire anche sulla terrazza terrazza questa di 13 metri quadri vale anche di una bella vista una zona tranquilla stradina siamo molto vicini anche al centro città tornando alla cucina la dimensione a superficie di circa 11 metri quadri va volendo si può installare un tavolino che si può mangiare comodamente qui in cucina andiamo a vedere l'ampio salotto questo di 24 metri quadri apparelle manuali infissi con il pvc con doppi vetri anche questi sostituiti per recentemente un piccolo disimpegno di circa 3 metri quadrati che porta alle due camere tra le prime due camere servite un bagno bagno completo di water vasca di idee non c'è un attacco vuoto vasca finestra la specchiera con lavato questa è la camera grande abbiamo circa 15 metri quadrati di stanza parche e camere mentre piastrelle bianche nel salotto cucina corridoio questa seconda camera qui siamo sui 13 metri quadrati perfetto proseguiamo abbiamo un ulteriore camera si trova oltre il salotto ed è anche servita da un bagno un bagno di servizio completo di water finestra e lavabo con specie a e qui l'ultima stanza anche questa di 13 metri quadrati bene vi invito a venire a vedere personalmente questo bellissimo appartamento di quattro e mezzo locali a bellinzona vi ringrazio ti affitto